Benvenuti a un nuovo video Saluto a tutti Grazie a tutti che vedete questo video Non è una like però Iniziamo la video Vabbè Lì Stiamo guardando il nostro Frank Non posso togliere Oggi vedremo un po' di Brow Stars Giucheremo Se la vinceremo Se la vinceremo Comprieremo Non è che sarà Sting delle anni Non ho 249 490 Oggi non so parlare 429 Dicende non c'è già una 17 Non lo so Non lo so Sopreremo tutto questo qua Questo 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 E non ci arriviamo con Colto Non ci va mai niente Mi trovo la mia cara Ehm Ho ancora poche volte ma Sto giocando Sto giocando No dai Sti bug di merda Non mi voglio No basta 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 Non provo a vincerla E di qua non va Sto giocando Poi Sto giocando Sto giocando Sono molti Devole La prova Dopo la via Non è quello No No Che è messo Carlo No No Tan Nel Che metto Stocca Che mi ha acceso Stocca Sticco Stocca Non che perderò Lasciate un bel like Ovviamente Sì 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 Ma chi ti va A mangiare con Anita Anita dopo ti ammazzo Dove stare attento Con la piper là Ok Allora Non è già un problema Ciao Con il leone lì Se mi tengo abbastanza lontano Ci riesco a mozzarlo Infatti Poi mi sa che moriva Non doveva morire Perché non ho capito Ok C'è un leone shark Allora 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 E vabbè Terzo Lasciate un like Eh Vabbè Ha pure un nuovo grado Eh sì Non mi sono neanche corti Vabbè Dopo farò un tutorial come a fare delle... Sì Dopo farò un tutorial Il mio primo tutorial farà Ragazzi Informatevi che farà un po' farò un tutorial O domani O domani Domani sì Domani farò un tutorial Posterò un tutorial Che avrà fatto oggi di sicuro Che ho avrà fatto oggi di sicuro Che ho avrà fatto oggi di sicuro Che ho avrà fatto oggi di sicuro È in mezzo mappa Devevo Suo cane Nooo Nooo Carletto Non mi fammi arrabbiare Che ho avrà fatto oggi di sicuro Carletto Che ho avrà fatto oggi di sicuro 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 simbolo tutto quanto quanto c'è tanta moneta e che cacchio ci godo c'è da un anno e mezzo ma va solo giro a potenziali da un anno ma che potenza cacca di vero 7 stava ok mettiamo che a prima colt grazie grazie a colt siamo fatti bello ok apriamo una cassa da promessa prima 2 prima 2 chissà cosa motivo che non sono qui ho 0,03 di leggendari che mi mancano leggendari 8 vittori mi fa schifo perché l'ho provato con un'altra cassa per la mia seconda mega cassa perché in offline me la sono preso una che era di questa poi era uscita un'altra volta non ho potuto prenderlo ok ok c'è un colt che mi prendiamo no non è colt ah mi sembrava colt ok 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 No way! Cheater! No way! No way! No way! No way! Eh dai! Colt è troppo forte, vai! Ma chi me vuole ammazzare, Colt, vai! Ma chi me vuole ammazzare! Eh vabbè, io dovevo shippare ma oggi ho shippato tutto il ragazzo. Ok! 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 Bella questa! Proprio! Face un bot! Proprio! Bellissimo! Lui fa cagare! Nooo! Non mi piace! Non mi piace! Non mi piace! Non c'è mai mi piace! Vabbè dai ragazzi! Sì! Se la vinciamo per questa sono messi bene! Eccoci! E' in partita! Ho fatto un piccolo taglio per farmi sfettare tanto! Sì! E' in partita! Sì! Non c'è niente mai! E' in partita... Niente niente plus! E' in partita! con questa ultima cassa che avremo finirò il video ok apriamola col panno della mano e vabbè stiamo parlando di quello ci è andato ragazzi con questa schermata vi saluta e alla prossima ciao